Purtroppo in apertura la cronaca ancora sangue sulle strade abruzzesi. Scende dall'auto per prestare soccorso a degli automobilisti e viene travolto e ucciso. È morto questa notte lungo la strada che collega Gioia dei Marsi con la frazione di Casali, Daschi, Olindo di Salvatore, 62 anni commerciante ambulante. L'uomo originario di Casali stava procedendo insieme a un'altra persona lungo la strada che porta al Parco Nazionale d'Abruzzo quando ha visto un'autoferma. Senza pensarci due volte si è fermato per dare una mano e proprio in quel frangente una fuoristrada lo ha travolto e ucciso. Ferita anche la persona che si trovava con lui. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente. Il conducente del fuoristrada è stato sottoposto e testa tossicologici e dovrà rispondere di omicidio stradale. Sull'accaduto è stata aperta un'inchiesta. Il commerciante ambulante era molto conosciuto in tutta la Marsica. Lascia la moglie e due figli.